Luca Benassi La stessa cosa dovremmo fare oggi, cercare di difendere il più possibile perché loro hanno giocatori molto forti e dobbiamo cercare di arginarli. Partita di oggi, se ricordiamo questa è un'intervista prepartita contro la BLS Chieti, avversario non proprio la più facile squadra del campionato. Cosa è l'esito a aspettarsi? Beh ci aspettiamo, loro hanno sicuramente un attacco molto forte, sono fisici, sono alti, hanno anche tanta esperienza. Noi abbiamo praticamente tutto l'opposto, siamo giovani, bassi, dobbiamo per forza alzare il ritmo, cercare di difendere il più possibile per poter avere qualche possibilità. Domanda che ho fatto anche prima a Stefano Raiola, un po' emozionato? Beh sì, nel senso per giocare contro alcuni di questi giocatori, però siamo qua, cerchiamo di godercele e vedere di fare il massimo. Perfetto, il mocca al lupo con Chieti, grazie.